Esatto, quindi noi, quelli che fanno i luoghi comuni come te su Napoli, che poi dopo si pentono e poi dopo vogliono pentirsi, chiedono scuse come scarbi, come filtri, cose... Ma sta bella compagnia, sta bello mazzo sta messo. Vabbè, ok, cioè, perché filtri... No, 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 ma le cose le ha detto, sta meritato, è meritato. Ha detto che i meridionali sono... cioè, lascio proprio là... i meridionali siano in molti, cioè, inferiori, capito? Mio figlio, quando l'ha sentito, ci è rimasto male. Ha detto, ma papà, ma perché quel signore dice che tu sei inferiore? Ah, come figlio di Salvini? Lo voglio dire, ma perché, scusa, mio figlio non ci può rimanere male, la figlia di Salvini ci può rimanere male, mio figlio no, ci è rimasto male per un figlio. Stiamo parlando di filtri in questo momento? Eh sì, di filtri, perché... No, no, io pensavo sempre di Marco, scusa, perdona, eh, ok. No, cioè, uno dice, capite, che sei inferiore, poi dice, che ci andiamo a fare in campagna? Andiamo a fare i... cioè, i... 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 i abusivi, andiamo a fare i parcheggiatori abusivi. Eh. Cioè, io glielo voglio dire, secondo me, se viene giù a fare questo, lo può pure risparmiare il viaggio, perché fare l'abusivo, il parcheggiatore abusivo, è una cosa di alta responsabilità, la gente ci tiene alle macchine, per cui se viene giù, secondo me, a lui le chiavi non gliene vanno, con quella faccia, assicuro che me gliene vanno. E poi, a proposito di abusività, visto che lui ha un ruolo, è una funzione di grande importanza, secondo me, per quello che fa, è quello che dice, di abusivo, in questo momento si dovrebbe dichiarare solamente lui. L'ho detto tutto, basta, non voglio fare... E hai detto quel che volevi dire? Grazie.